Sull'albo pretorio del Comune di Battipaglia, firma del dirigente dottoressa Anna Pannullo, si rende noto che è stato pubblicato il bando pubblico per l'erogazione di contributi ai cittadini morosi incolpevoli destinatari di provvedimento distratto. Il bando integrale e la modulistica da utilizzare sono pubblicati sul sito internet del Comune di Battipaglia, sezioni avvisi, e sono in distribuzione presso l'URP e il settore educativo e socio-culturale, Ufficio SIA, REI, Ufficio Contributi Alloggiativi, sito in piazza Aldomoro. Le domande dovranno essere presentate con le forme e le modalità previste nel bando nel 31 12 2018. Per informazioni ed assistenza nella compilazione delle domande è possibile telefonare allo 0828 677 874.